Può essere quella vendita da Andrea? È quella giusta! Fofi! 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 Fofi, fa signore vento... 25% li vengono, c'eri tre opti si gioca con l'incabel del Mondial Uff! Dai, ok? Guarda quanta gente sbaglia. Guarda, tutti i free game. Ah, ma in questo non puoi. Game loss, game loss. E vinci tutto il tuo mondo. Ma io giocherò... Che giochi che dici? Volcanic, cazzo. Se dici che porti... Ti prometto che porto una tempo sette in qualsiasi modo. Ecco, il modello... Ho anche se ho 10.000 tra each other gioco? No, poi che ha a mente il cosech. Cos'è via, cosa? Ma Ma il situation io sento è bellissimo! Domani! Un po' pendolo, ha un feel center bellissimo. Fatti quello lo sto lasciando perché è pendolo. Non lo collegare, senti che mi ha fatto a prescindere questa cosa. La vita del due l'arte. La vita del due l'arte. Carton Jones. Parato. Garzellolo esporro! Garzellolo esporro è il garzella! Sì, perché non hai mai capito niente, lo sai, mi conosci, quindi te lo chiedono sempre. Infatti, come hai detto, un po' adesso l'ho visto. Sì, 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 un po' che l'ho visto, fortunatamente. È una brutta storia la vita. Scusa, posso distrarti? Una bella distrazione. Scusa, è una brutta storia. Scusa, è una brutta storia. una volta ti aggiunto faccio ribalzando, faccio le attivazioni con effetto di magia e trappole e se viene distrutto in battaglia, se c'è una magia in ormai... Perché lo dicono tutti? Perché vuol dire che lo fa davvero? Però guarda, quello di data è sano per chi si va. Eh, quando cimitero posso rimuoverlo perché mi torno un po' di cappettino. Dicono perché la cimitero scatta i posti di composto uovole. Stai via! No, è... Fa così, poi io ti lascio. Che è il scattato? E poi... Si, si, colisimo il posto dell'estero tapp Diciamo con la camera. Ah, ok, scusami. Un incendio. Un incendio dopo 30. Un abbatto quella. Mando al cimitero questa, in soluzione, perché ho la lanciata. Che ordina d'ho, Giorgio Angesiglia? Giorgio Angesiglia. Ha tipo due settimane che ti ho detto dire. E' che c'è rimasto Giamaica, ragazzi. E' che c'è rimasto Giamaica, ragazzi. Non ti voglio raggiungere. Direi. Sono partito con Imperial Order. Ah. Che strava, che non c'è Sanghan Imperial Order. Dove cazzo dove andrà? La sesta è stata impegna. Ah. Mmm. Ancora ancora Imperial Order me la potevo affrontare. Vabbè, con tutto quello che avevo da proteggere, che avevo pure Giamaica. Ah, beh. Senza la cosa. Ah, ho Giamaica Imperial Order. Sanghan Siltidus. Sanghan Siltidus. Extra. Non si pescava Imperman. E' un'altra data. Cioè, nel nostro primo match è così. Chi va al primo vince. Quindi se no bricca pesante. E' un po' l'altra, me la due andrò, me la tapposita. E' un po' l'altro, me la due andrò, al teenchere. E' un po'. Un po' l'altro non ve ne due andrò la arte. No! Mè. E' un po'. Ecco è che la tettina. No. E' un po'. C'è un po'. E' 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 un po'. Battles! Grazie! Siamo! Oh shit! Non c'è un mille di carriole! Non c'è un mille di carriole! No, se ci sono nella combo! Non c'è la combo, sangue e la vega! Ma se gioca al miaggio perché invece... Perché si va con mille di carriole! Esatto! Se sangue e nero gli uomo non è giocava alla via! Ripoppa gli occhi, dunque! Non ci vuole un genio a capirlo! Chiaramente! Il colore! A presto! Il colore! Stand by! Ok! Menni! Faga! Bag dizia! A presto! Per presto! C'è brillante! Oggi! Sì! Non sono ragazzi, mi ha fatto uscire un altro raggiaggio Ma non sono ragazzi Ma in due Non sono ragazzi Ma 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 sono ragazzi Ma non 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 sono ragazzi Ma sono ragazzi Ma non 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 sono ragazzi Quanto state Ma non sono ragazzi 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 Ma non sono ragazzi